Gentili telespettatori, buona giornata. Voi non ci crederete, ma la Schlein ormai negli ultimi due giorni di chiusura della campagna elettorale sta ripetendo le solite frasette prestabilite, preconfezionate. Quindi non ha neanche la capacità di fare una frase nuova, di dirla in un altro modo, dice le stesse frasi sempre nello stesso modo, come se avesse un'agenda con un elenco di frasi che lei ripete girandole, ruotandole. E voi direte, come? Il capo politico del secondo partito italiano ripete delle frasi preimpostate? Sapete, ci sono quei giocattoli per i bambini con le pile che tu schiacci un pulsante e ti dicono, oggi ho mangiato la pasta, clic, oggi sono stato a scuola, clic, domani vado al parco con la mamma, clic, che bella giornata di sole, clic. E poi ripete da capo le stesse frasi. Di solito quei giocattoli, non so, ne hanno impostate 6, 7, 8, poi magari puoi programmare diverse tipologie di frasi e quindi ripete praticamente il giocattolo le stesse cose. Io ancora su ho i giocattoli dei bambini che, ammesso che funzionino ancora le pile, tu schiacci il pulsante, si muove un po' e ti ripete la stessa cosa. Anch'io bevo acqua spucchiacchia. E sai cosa bevi? Ecco, la Schlein che ripete sempre le stesse cose è agghiacciante. Caspiterina, sei il capo del secondo partito e ripeti sempre le stesse frasi, ma poi dette nello stesso preciso identico modo. Allora che cosa dice oggi? Sentite un po'. L'unica cosa che ha fatto per la Meloni per la sanità è fare entrare gli anti-legge 194 nei consultori per fare pressioni violente sulle donne. Pressioni violente sulle donne è una frase che ripete ormai da giorni, sempre la stessa identica, quindi non ha bisogno neanche di pensare a una frase fatta diversamente perché lei la ripete esattamente identica. Allora, pensate l'accusa alla Meloni, questa cattivona della Meloni, pensate un po', fa entrare nei consultori, come dice la legge, persone di provita che chiedono alle donne sei sicura di quello che stai facendo, vuoi chiacchierare un po', vuoi raccontarmi cosa succede, ti posso aiutare, ti posso dare un consiglio. Ecco, queste sarebbero le pressioni violente sulle donne. Una donna che decide di fare l'interruzione, arrivano delle persone che non sono dei mostri o dei draghi o del chissà quale stalker, sono persone che ti chiedono, vuoi chiacchierare ancora un po', vuoi che ti aiuto, vuoi che ti do la mia opinione, vuoi raccontarmi cosa è successo. Sono persone che ti chiedono se veramente sei sicura, vuoi pensarci, vuoi chiacchierare con loro. A me sembra comunque un supporto, cioè sono delle persone che cercano di darti una mano, di dire guarda ma sei sicura, ma ci hai pensato bene, non stai facendo magari le cose di fretta. Secondo Lashlein, solo andare a chiedere a una donna che ha deciso di fare un'interruzione, solo andare a dire vuoi chiacchierare ancora, vuoi che parliamo di quello che è successo, solo dire questo è una pressione violenta sulle donne. Beh, se ragioniamo in questo modo, secondo me è una visione assurda. E con questo la Meloni viene accusata col suo governo di voler cancellare i diritti delle donne. Caspiterina, da fare entrare una persona o due persone nel consultorio a chiacchierare con le persone, a dire senti, chiacchieriamo prima che... Questa sarebbe addirittura una cancellazione dei diritti delle donne. Davvero siamo a un livello infimo della politica, perché se la politica si riduce a raccontare bugie di questo tipo, la Meloni cancella i diritti delle donne perché fa entrare nei consultori delle persone eventualmente per fare due chiacchiere con te e chiederti cosa sta succedendo, se vuoi un consiglio, addirittura osano dire a una donna, vogliono dare un consiglio, osano chiacchierare con una donna che ha deciso. Mamma mia, come state? Ma come si fa? Ma come si fa? Veramente davvero è sconcertante un ragionamento di questo tipo. E dice così la Schlein, Meloni, sto leggendo delle cose che faccio fatica, in che lingua sta parlando e che film sta vedendo. Vedo, vede un altro paese, mi ha attaccato dicendo che la sinistra cancella l'identità. Io ho risposto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle donne. Sta cancellando la libertà delle donne. Forse più che dire alla Meloni che film sta vedendo, bisognerebbe dire alla Schlein, Schlein, ma che serie di film sta guardando lei? Ma dove vive? Ma in che mondo? Vabbè, lei vive nel mondo dell'armocromista e se vivi nel mondo di una che ha l'armocromista vuol dire che vivi nel mondo di una che ha tanti soldi. Perché se tu paghi qualcuno per dirti che scarpe mettere, io vi posso assicurare che sto bene economicamente, però non mi passerebbe mai in mente l'idea di buttare soldi per telefonare a qualcuno e dirgli secondo te se metto questo colore oggi può andare bene o no? Che dici? Metto un'altra roba? Beh, questo ti dice, beh, prima di dirtelo mandami un bonifico di 191 euro più IVA, eh? E poi ti dico se puoi uscire con questa maglietta per andare al supermercato o no. Eh? Va bene, comunque, quindi forse è la Schlein che sta vedendo dei film curiosi e poi aggiunge Posso aggiungere una sola cosa? Elena, mamma mia come stai? Ma stai proprio male, eh? Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Arrivederci e grazie.